Ah, vediamo, vediamo! Ah, ci sono! Dipingerò la stanza di rosa! Ah! E adesso che cosa volete? Oh, detesto cedertelo, Brit, ma ci serve un posto dove stare. Visto che le tue sorelle si sono appropriate della nostra camera. Proviamo giusto che noi restiamo qui. So cosa cerchi di fare, Alvin, già ti ho capito, ma la tua idea non funzionerà. Non ho intenzione di andarmene. Credi che non possa sopportare dei piedi puzzolenti? Ti ho tornato, ti prego, non ti ci mettere anche tu! Oh, accipicchia, credo che andrò a tagliare delle rose, ma ragazzi, sappiate che tornerò!